Sì, sono talmente emozionata e felice perché questo mi fa sentire veramente fiera di essere italiana perché tutto quello che c'è qui è veramente l'anima di ogni italiano e ci rappresenta al mille per mille ed è meraviglioso la mia grande moglie di l'anima, la mia ragione è una nascita, la mia ragione di l'anima di l'anima di un'anima, la mia ragione di l'anima, la mia ragione di Maria Grazia Kuchinotta, che ha dato la scala di l'anima, che ha dato l'anima di l'anima di l'anima. da un'immagine di prodotto, da un'immagine di prodotto, da un'immagine di prodotto, da un'immagine di prodotto e di un'immagine di fabriolo, che si può essere un'immagine di una città. Grazie a tutti con i miei occhi e ripeto, sono orgogliosa, grazie perché mi avete fatto sentire orgogliosa di essere italiana. Grazie. Grazie.